di tipo nazionale, in un giudizio politico, la colpa di tutto ciò che avviene è della magistratura e dell'opposizione. In particolare ha aggiunto che se c'è una persona che non vorrebbe più vedere è proprio di chi, è proprio dagli italiani se si sono resi conto o no di chi è questo soggetto, perché questo soggetto ha fatto parte da alcuni presupposti, innanzitutto dal 1994 che sta dicendo che egli avrebbe risollevato le sorti dell'Italia, trovatemi chi si è risollevato nel nostro paese, sono gli evasori fiscali, sono colori che vengono la legge, sono colori che fanno parte di una certa casta e di una certa grigia. Le persone normali, le faccelevoli, i lavoratori, quelli che lavori non ne hanno, quelli che sono senza occupazione, i giovani, che cosa hanno avuto da Berlusconi? Niente. Allora visto che vuole un giudizio politico, diamoglielo questo giudizio politico, diamoglielo, ma non un giudizio, un voto scolastico. Quando ti mandano a casa e dicono bocciate, bocciate. Bocciate. Perché? Cosa ha fatto per l'Italia e per il paese? 37 leggi ha fatte, tutte per l'interesse suo personale, per non farsi processare, per non pagare le tasse, per fare in condizione che gli appalti venissero vinti dai suoi amici, per tutti i provvedimenti che servono a una piccola parte del paese. Io accuso il governo Berlusconi politicamente per aver ridotto il paese ad una nuova differenzazione sociale, ad una nuova differenzazione di classe, pochi che stanno troppo bene e troppo che stanno troppo male. Ecco perché io accuso questo governo di fare il male al paese. Perché a parità di risorse, quelle risorse non andavano utilizzate, non vanno utilizzate in quel modo. Se un padre di famiglia ha pochi soldi in cassa, prima di farsi il cappotto vede di comprare un piatto di pasta asciutta, un po' di pasta e un po' di acqua per i figli. Se noi abbiamo pochi soldi in tasca, prima di fare il fondo sullo stretto di Messina, aumentiamo gli ammortizzatori sociali. Il capo dell'economia, il capo dell'impresa, il capo della polizia, il capo della profettura, il capo della banca, si mette d'accordo, cioè tutti coloro che hanno un potere in mano, per fare in modo che l'uno serve per far fare gli affari agli altri. Poi tutti insieme, se ne vanno in Parlamento e si fanno una legge per non farsi neanche processare. Questa è la politica di pochi. Quindi la nostra accusa non è un'accusa personale, è un'accusa politica che facciamo a un governo che è sul piano delle priorità, priorità che sono l'occupazione e il lavoro, prima di tutto. In secondo luogo, la sanità, la tutela ambientale, la salute, le fasce sociali che hanno più bisogno e il rilancio dell'economia reale. In questo senso, in questo senso, noi abbiamo fatto una scelta di campo, proprio perché dice che un voto politico, io vi invito a riflettere anche su quale tipo di voto politico. Lo ha dimostrato in tutti i modi, nel momento in cui egli, appunto in questi anni, ha insistito nel farsi le leggi a uso e consumo proprio. Perché è chiaro che se tu vedi che trovi una persona, che la magistratura ti dice, guardate che questo mi dice, noi siamo qui, avete sentito 15 giorni fa, vogliamo fare un intervento per combattere la corruzione. Ora, pensateci bene, sono 15 anni che io vado dicendo in giro che c'è un solo modo per ridare dignità al nostro Paese. Sta venire una regola che i candidati, 15 anni che mi dicono che io sono un erosivo, sono un giustiziarista e quant'altro. L'ha detto lui Berlusconi, poi dice, finalmente è arrivato. La prima cosa che ho detto è che questo stamattina si è guardato in faccia e si è menato da solo. Perché... come non fate questo? Mi sono anche chiesto, però, perché lo conosco, dove sta la fregatura? Perché quando fa un provvedimento dovete sempre chiedermi dove sta la fregatura? Dove sta la fregatura? Sta qua. Perché ha detto, chiunque è condannato, definitivamente nei cinque anni successivi non può essere candidato. Quando è che si è votato? Ma ci abbiamo scritto il giocondo qui. Ecco, questo modello di governo quindi che a me preoccupa non tanto per il Berlusconi che è lui, ma per il berlusconismo che si sta...